Il trimestre è buono, supera le attese. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, al Salone dell'Auto di Parigi, confermando il rialzo dei target 2010 del gruppo. E le sue parole hanno avuto praticamente in tempo reale ripercussioni positive sul titolo. Il manager della casa torinese ha tuttavia anche ammesso che settembre non è stato, in ogni caso, un buon mese per le vendite di autovetture, né in Italia né in Europa, aggiungendo che questa situazione è destinata a protrarsi ancora per un po'. Per questo, secondo Marchionne, bisogna gestire la situazione con calma e aspettare l'inizio del 2011, che secondo i suoi piani potrebbe essere l'anno giusto per il gruppo di riprendersi il 5% della Ferrari al momento detenuto da una società con sede negli Emirati Arabi. Una vendita che, a suo dire, si concluse troppo frettolosamente. Sull'eventuale quotazione della casa del cavallino rampante Marchionne indica poi che non esiste nessun piano immediato. Concludendo, l'amministratore delegato Fiat ha anche parlato delle prospettive future dell'azienda, come delle alleanze e della cessione dei marchi. Riguardo Fiat Industrial, la nuova società nata dallo spin-off che il Lingotto ha avviato nelle scorse settimane, la DIA ha detto che in casa Fiat si parla con tutti e si è aperti ad alleanze strategiche che possano rafforzare il business. Quanto alla cessione di marchi come Alfa Romeo, il manager ha infine affermato che al momento questa è un'ipotesi non contemplata dal gruppo torinese, che semmai intende impegnarsi con Chrysler per renderlo un marchio forte e tecnico.